Sì, credo di sì, è stata una partita combattuta a viso aperto, quindi credo che chi è che l'ha vista sia anche divertito. Chiaramente resta un po' rammarico di non aver chiuso la prima frazione, probabilmente con un punteggio un po' più rotondo che ci avrebbe permesso di gestirla in maniera diversa a secondo tempo. Detto questo però Cittadella a secondo tempo ci ha messo sotto in difficoltà, ci ha fatto abbassare tanto e non per volontà nostra ma per il fatto che hanno cominciato a spingere. Chiaramente i nostri tre riferimenti offensivi non sono stati brillanti come la prima frazione e quindi chiaramente gestendo più la palla in determinata maniera Cittadella ci ha fatto correre e alla fine il pareggio credo che sia la cosa più giusta, perché non potevano giocare. Hanno avuto Belmonte alla pre-rifinitura e Del Prete alla rifinitura, hanno avuto un problemino fisico quindi abbiamo preferito non rischiare anche perché abbiamo partita sabato, poi ci chiamo martedì ancora sabato quindi in questo momento ho bisogno veramente di tutti, spero non sia niente di grave, verranno valutati domani al rientro e quindi questo è il motivo. No beh diciamo allora, al primo tempo abbiamo concesso un tiro dal limite che ha parato Antonio a sua sinistra e poco altro, quindi anche la fase difensiva è andata bene. È andata anche bene il secondo tempo, c'è stata chiaramente l'occasione del paro, credo un altro tiro dal limite o lì vicino e poi un altro tiro da fuori. Ci sono stati tanti cross messi dentro la nostra area di rigore ma rispinti sempre quindi è stata anche abbastanza... ci sta di soffrire anche un attimo la Serie B non ci sono campi che vai e riesci a dominare dal primo all'ultimo minuto o in ogni caso gestirla magari come tu vuoi perché poi c'è l'avversario che ti impone certe cose. Il rammarico è che per 55 minuti, anche 60, i tre davanti hanno fatto secondo me veramente bene ricordo anche un paio di ripartenze, una clamorossa secondo tempo di Di Carmine che l'ha passata a un compagno a sinistra, adesso non ricordo chi quando poteva davanti al portiere probabilmente anche a tirare, sì era anno largo e al primo tempo abbiamo sviluppato diverse volte sono stati annullati due gol che probabilmente era giusto annullare non lo so ma sta a significare che in ogni caso ci siamo arrivati lì davanti quindi come ho detto prima quando abbiamo pagato Dazio al punto di vista fisico con i tre davanti e la palla probabilmente non veniva gestita in una determinata maniera chiaramente il Centradella ha preso campo e poi ha meritato perché ha portato tanti uomini spesso sugli esterni ci ha fatto correre e alla fine ha trovato l'episodio per pareggiarla. A un certo punto ho dovuto fare una scelta perché tra l'altro Alberto aveva preso una contusione dietro la coscia anche lui non stava benissimo. c'era Marco Paiaca al quale faccio i complimenti, di solito dei singoli non parlo ma gli faccio veramente i complimenti perché ha fatto una bella partita la prima ufficiale in un ruolo che non è stato il suo quindi fare il terzino sinistro anzi ci ha dato anche una qualità incredibile nel ripartenza del primo tempo ha fatto veramente bene da quella parte lì chiaramente la fase difensiva è migliorabile ma sta lavorando per questo quindi anche lui quando ha finito i 65 minuti, i 70 che aveva di autonomia ha stato costretto a fare in cambio da quella parte e lo stesso Han che non ha la capacità ancora di gestirsi in mezzo al campo quindi finché a benzina corre invece forse in questo momento è il suo limite perché non riesce a gestire le corsa spesso corre a vuoto e corre probabilmente per altri quindi deve cercare di migliorare questo punto di vista ho dovuto fare tre cambi praticamente dovuti a questo è un peccato poi chiaramente alla fine quando la partita era in pareggio poteva starci anche il gol da una parte e dall'altra perché poi magicamente quando hanno cittadella pareggiata abbiamo trovato anche le forze per riproporci in avanti ricordo una palla che ha attraversato la linea di porta la traversa di bianco però alla fine confermo che il pareggio sia la cosa più giusta grazie grazie